Siamo alla Fiera dell'Oriente delle Arti Marziali e una delle arti marziali è quella della CDP, della Scuola Italiana. Siamo qui con Emanuele, Scuola Italiana. Salve, piacere. Scuola Italiana Difesa Personale. In realtà, nonostante il nome faccia esplicito riferimento alla difesa personale, quel che facciamo è radici antiche e affonda il proprio cuore nel Wing Chun, che è uno stile di Kung Fu che nasce nella Cina del Sud, intorno al 1600. Come molto spesso accade nelle arti marziali, l'origine è a metà tra leggenda e storia, quella con la S maiuscola. La leggenda narra di un qualcosa che nasce dall'esperienza di una sacerdotessa del tempio di Shaolin, Talengomui, la quale, osservando la lotta tra una gru e un serpente, definisce quelli che sono i principi del Wing Chun. In realtà, a livello storico, la versione più accreditata è quella per la quale il Wing Chun nasce come distillato delle arti marziali più efficaci dell'epoca, che in seguito ha necessità da parte dei cinesi di difendersi dall'occupazione di un paese straniero, dei Manchu. E quindi è necessario sviluppare uno stile di combattimento che fosse al contempo rapido, da imparare, efficace e il più possibile criptico, perché la guerra era una guerra di resistenza, una guerra occulta e non bisognava quindi far vedere quel che in realtà si praticava. Scusa, ti interruppo Emanuele, siamo in attesa del tuo istruttore, del fondatore. Aspettiamo in realtà, esatto, il nostro maestro, il Sifu Francesco Procaccini, che è colui che ha fondato la CDP. Lo spirito con cui il nostro Sifu e tutti noi lavoriamo è quello di rendere le arti marziali veramente efficaci e utili nelle realtà in cui ci troviamo a vivere. Il Sifu è la filosofia? Il Sifu è un termine tradizionale che indica il concetto di padre o addirittura nonno. Di padre. Esatto, questo proprio per testimoniare la natura familiare di una scuola di arti marziali. Noi siamo in realtà una famiglia, condividiamo degli ideali, dei propositi e degli obiettivi. Il nostro obiettivo è quello di vivere onestamente con il Messia delle Armi, al servizio di tutti coloro che sentono ancora di aver bisogno di quello che noi facciamo. Il bisogno delle arti marziali nella realtà di oggi ha una valenza almeno doppia. Da un lato c'è la necessità purtroppo di doversi difendere, perché è vero che fortunatamente non viviamo in uno stato di guerra, ma se qualcuno ci aggredisce, se qualcuno vuole elettere la nostra incolumità di chi ci è caro, allora sì, siamo purtroppo in guerra, una guerra limitata, circoscritta, ma nella quale, se non siamo in grado di mettere in atto delle difese reali ed efficaci, possiamo venire non sconfitti, ma uccisi o menomati per sempre. Oltre a questo aspetto prettamente pragmatico, c'è anche un aspetto invece, se vogliamo, più nobile, più profondo, cioè quello di poter continuamente evolvere, non a caso, perché facciamo affondare l'arici nel buddismo, che punta proprio alla valorizzazione e al superamento del sé. Quindi evolvere in un'ottica in cui il real avversario non è tanto l'altro, ma è... Noi stessi. Noi stessi, esatto, noi stessi, il nostro io a volte più pigro, il nostro io più meschino, invece ecco, l'obiettivo è andare oltre, lavorando insieme verso, come diciamo prima, un obiettivo comune.